Traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi comuni da sparo, tentato omicidio e lesioni personali aggravate. È stata disarticolata nel milanese una guerrita struttura criminale organizzata, gravitante nell'ambito di una cosca dell'Andrangheta con base tra Milano, Como e Monza. L'operazione in corso sin dalle prime ore dell'alba ha visto impiegati i carabinieri del comando provinciale di Milano ed ha permesso di eseguire nuove ordinanze di custodia cautelare in carcere e 22 perquisizioni domiciliari e personali.